Maurizio Ridolfi è il nuovo allenatore del Prato, subentra a Raffaele Novelli, ha già diretto il primo allenamento. Che squadra hai trovato? Allora, innanzitutto concedimi di ringraziare il Presidente per l'opportunità, è doveroso da parte mia. La squadra, dopo un allenamento, giudicare una squadra credo sia impossibile. Certamente se io sono qui, dei problemi ci sono, perché se hai il terzo allenatore da agosto ad ora, è logico che ci siano dei problemi. Vediamo ora, con l'allenamento a seguire, dove intervenire. Secondo me è parecchio sulla testa. Poi domenica c'è questa partita importante che ci si preparerà bene per affrontarla in massimo e poi vediamo. Però l'impegno è massimo, i ragazzi ho visto che si allenano bene per certe situazioni. Certamente c'è da migliorare diverse cose, altrimenti non eravamo qua. Tatticamente come sarà il Prato di Maurizio Ridolfi? Una bella domanda. Oggi l'infermeria era piena, quindi da qui a domenica vediamo di recuperare qualcuno. Io ho un'idea in testa, ce l'ho di già, ovviamente. Vediamo se la posso mettere in pratica. Ovviamente io non sono uno che vede solo un tipo di calcio. Secondo me bisogna essere duttili, bisogna essere organizzati e quindi vediamo che modulo si sceglie a partita domenica. Domenica c'è il mezzolaro, una partita fondamentale per la classifica, per il morale, per la piazza. Insomma è la partita con la P maiuscola. Si inizia subito bene, no? Infatti, no, è la partita, lo so, sono tutte importanti. C'è 16 partite, io credo che questa squadra però, non ti dico le possa vincere tutte, ma insomma ci si prova perché secondo me ci sono dei valori importanti che ancora forse non sono stati tirati fuori al massimo. Si proverà a partita domenica a tirare fuori il massimo da tutti i ragazzi. Maurizio Ridolfi, promosso allenatore della prima squadra del Prato, ha aperto la porta dello spogliatoio e la prima cosa che ha detto ai ragazzi qual è stata? Ho detto che se ho accettato vuol dire che credo in questa squadra, perché se no nessuno me l'avrebbe fatto fare. Perché sì, per me è una bellissima opportunità, l'ho detto prima ringraziando il Presidente, però ci metto la faccia, anch'io, perché la situazione non è facile, la classifica è quello che è. Ci sono dei problemi, però io credo tantissimo in questi ragazzi che si possa riuscire in breve tempo a tirarsi fuori da queste sabbie mobili. che si possa riuscire in breve. Grazie.